Musica 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 Buonasera Buonasera Come procede? Tommy, spero che state facendo il bravo Sì Prego, fate pure, ci vediamo oggi Oh mia dolce linda, come stai? Tutti bene sorella? Luca, un piacere come sempre Conte! Come sta Conte? Perfetto, divertitevi, mi raccomando Buonasera Lady Cheer Vi state divertendo? Moltissimo Moltissimo Desidererai parlare le tardi quando sia possibile Avremo modo di parlare, non si preoccupi Divertitevi intanto Grazie Musica Meson, come procede? Ah, salve e servo Roberto Tutto bene per la cena Mi raccomando, va servita tra poco Certamente Modia cara Come stai? Tutto bene, grazie Perfetto A tra poco È quasi pronta La festa Può iniziare così Può iniziare così Perfetto Perfetto Perfetto